Buon pomeriggio telespettatori di Le Fonti TV e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Agorapenale. Oggi affronteremo un tema quanto mai d'attualità in questi giorni. Parleremo infatti di sequestri informatici. Prima di addentrarci però nel tema lasciatemi dare il benvenuto alla nostra ospita e benvenuta all'Avvocato Penalista Michela Vecchi, titolare dello Studio Legale Vecchi. Ben trovata. Avvocato, parlavo di attualità del tema. Infatti novembre già da 11 anni ospita il congresso della Leopolda. Questi giorni sono in fermento da un punto di vista politico e non solo, infatti è tornato di grande attualità un accadimento che ha avuto una vasta eco-mediatica un po' di tempo fa, proprio riguardante i sequestri informatici. Senza addentrarci nella vicenda, quello che chiedo a lei è quello di spiegare anche a beneficio del nostro pubblico quali sono i perimetri del sequestro informatico. Cos'è il sequestro informatico e come funziona? Come giustamente ha detto lei, il sequestro, il tema del sequestro informatico è di particolare attualità in questo momento perché in tutti i quotidiani nazionali sono state pubblicate le chat rinvenute sui telefoni sequestrati agli indagati con persone terze e strane rispetto a qualunque genere di reato e sono state pubblicate su tutti i giornali. Quindi questo già dimostra quanto può essere pervasivo un sequestro informatico. Il sequestro informatico si caratterizza per avere ad oggetto materialmente un device, che sia un telefono cellulare, che sia una pendrive, che sia un computer, che sia un hard disk, ma per avere giuridicamente ad oggetto il dato informatico contenuto nel device. Nella buona sostanza, poiché in sede di esecuzione del sequestro non è possibile selezionare il dato informatico per ragioni di carattere pratico organizzativo, si acquisisce l'apparecchio, il device e quindi l'integralità dei dati informatici nei suoi contenuti. E qua sta il primo pericolo del sequestro informatico, proprio perché non è possibile selezionare il dato che si va a cercare in sede di perquisizione e sequestro, si sequestra l'apparecchio e quindi l'integralità dei dati nei suoi contenuti. E questo segna già di per sé la portata devastante del sequestro informatico, perché in qualunque device, basta pensare a qualunque nostro cellulare, grazie ai programmi di messaggistica istantanea sono contenute delle applicazioni dove ci sono tutte le nostre chat, basti pensare a WhatsApp, Viber, Telegram. In ciascuno dei nostri telefoni siamo collegati all'account di posta e quindi nel telefono cellulare si trovano tutte le email, sia personali che aziendali. Ciascuno di noi utilizza il telefono per archiviare, secondo un metodo sistematico, tutti i documenti di tutti i tipi che lo riguardano. Creiamo i cosiddetti album e creiamo i documenti bancari, dove ci sono magari le password delle nostre carte di credito, gli estratti conti bancari, le distinte dei bonifici, piuttosto che i nostri dati di salute, i nostri dati sanitari, i referti dei nostri esami, piuttosto che le foto dei nostri cari. E quindi accedendo al telefono nella sua integralità siamo scoperti sotto tutti i punti di vista, dati bancari, dati sanitari, dati che dimostrano i nostri orientamenti sessuali, religiosi, tutti dati non pertinenti rispetto ai reati per cui si procede e rispetto all'accertamento dei quali il decreto di sequestro è stato emesso. Quindi qual è la necessità? Duplice. Far sì che il sequestro informatico abbia effettivamente ad oggetto solo il dato, solo ed esclusivamente il dato probatoriamente rilevante rispetto al reato per cui si procede ed evitare dei sequestri esplorativi che attingano dati irrilevanti rispetto ai reati per cui si procede, dati coperti dalle leggi sulla privacy e peggio ancora per acquisire eventualmente notizie criminis ulteriori e diverse rispetto ai reati oggetto di accertamento. Io faccio sempre un esempio a cui mi sono affezionata e cioè spesso il sequestro informatico viene utilizzato come i pescatori di Mazzara del Vallo utilizzerebbero le reti per la pesca a strascico e in questo modo vengono acquisite tutta una serie di notizie spurie rispetto al reato che dovrebbe essere l'unico oggetto di accertamento con conseguente compromissione di tutta una serie di diritti da parte di chi patisce il sequestro. Ecco Avvocato, ha fatto un esempio molto efficace quello della rete di pescatori, invece per rimanere nell'ambito della legittimità dell'acquisizione del dato informatico cosa bisognerebbe fare affinché questa acquisizione appunto rimanga legittima? Ecco, ha fatto bene a chiedermi cosa bisognerebbe fare perché io adesso cercherò di essere molto breve e molto semplice nella descrizione delle condizioni di legittimità astratta del sequestro. Le dico già che le prassi applicative in concreto utilizzate dalle diverse procure della Repubblica sono prassi eterogenee e, come dire, rispetto a cui si creano dei bracci di ferro importanti tra difesa e accusa. La prima condizione di legittimità dovrebbe essere quella di perimetrare a priori l'oggetto del sequestro da un punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale. Cosa significa? Significa che bisognerebbe adottare da parte del pubblico ministero, perché i sequestri informatici sono sequestri di tipo probatorio, quindi chi li dispone il pubblico ministero, nel decreto genetico che dispone il sequestro bisognerebbe indicare la tipologia dei documenti che si vanno a cercare, l'oggetto dei documenti che si vanno a cercare e il perimetro temporale della ricerca, perché è evidente che se si procede per un reato in ipotesi commesso nel 2021, non si possono andare a ricercare dati del lontano 2015, perché altrimenti il rischio della pervasività e dell'eccessività del sequestro, come dire, è dietro l'angolo. Quindi, delimitazione exante dei criteri quantitativi, qualitativi e temporali. Questa è la prima condizione di legittimità del sequestro e questo perché, come dire, guardate che solo di recente la Cassazione, in una pronuncia molto bella della sezione sesta, ha specificato che poiché il rischio del sequestro esplorativo, la rete dei pescatori della pesca strascico di Mazzara del Vallo è dietro l'angolo, occorre approntare già al momento di adozione del mezzo di ricerca della prova delle garanzie che cerchino di evitare la compressione assoluta dei diritti di chi patisce il sequestro, diritti che sono la proprietà privata, la libertà di iniziativa economica, il diritto a non vedere intromessa nella propria sfera lavorativa e familiare l'autorità per motivi che nulla c'entrano rispetto ai reati per cui si procede. Queste sono le parole di una bellissima sentenza dove ho avuto anche l'onore di essere io la ricorrente della sezione sesta che ha specificato questo primo tassello. Poi vi è un secondo tassello fondamentale, sempre in condizioni, per le condizioni di legittimità del sequestro, che è quello di assicurare l'integrità del dato informatico. Allora qui due parole dobbiamo dirle, l'impatto della prova digitale sul processo penale ha imposto la rivisitazione degli approcci investigativi tradizionali e dei modelli concettuali nel passato utilizzati perché il dato informatico è, si dice, tecnicamente si dice, dematerializzato rispetto all'apparecchio che lo contiene. Cosa significa? Che il dato informatico di per sé è fragile, può essere duplicato un numero infinito di volte, può essere trasposto da un dispositivo all'altro un numero infinito di volte, può essere alterato da parte di chi lo ha formato, cioè l'autore, o da parte dei terzi. Quindi prima di andare a esaminare il dato informatico tu devi assicurare l'integrità di questo dato e lo fai attraverso operazioni tecniche di esecuzione della copia forense integrale del contenuto dell'apparecchio che tu sequestri. Apprendi l'apparecchio, fai la copia forense integrale e su quella che è fatta con i crismi che ne garantiscano l'autenticità e l'integrità, vai a lavorare cercando i dati che probatoriamente ti interessano. La terza condizione di legittimità del sequestro afferisce, e questa per me è la parte, lo dico già in assoluto più delicata, ai criteri con cui individui le parole chiave con cui andare a cercare i dati e al fatto che la difesa dovrebbe partecipare all'inserimento di queste parole chiave. Cercherò di essere semplicissima, una volta che tu hai la copia forense integrale, tu devi avere dei criteri di ricerca, perché è come un hard disk informatico, come vai a cercare i dati che ti interessano? Non è che puoi indiscriminatamente visionare tutto e poi pizzicare quello che ti interessa, proprio perché deve essere un metodo definito a priori. Quindi occorrono, e questa devo dire è una delimitazione che le difese hanno cercato di portare avanti nelle lotte con i pubblici ministeri e su cui la Cassazione da ultimo ha messo un crisma come dire di fondatezza. Bisogna individuare delle keywords, delle parole chiave, andare a metterle in questo dato informatico indistinto e l'individuazione della keywords è molto importante, perché se tu inserisci 100 keywords, tu acquisisci dei dati che potenzialmente sono irrilevanti rispetto al reato per cui procedi. Quindi l'individuazione di keywords pertinenti e proporzionate incide sulla pertinenzialità e proporzionalità del sequestro. Più le keywords sono determinate rispetto ai reati che tu vuoi accertare e più avete il rischio di andare alla ricerca cieca di dati irrilevanti. A questa operazione è poi fondamentale che partecipi ovviamente alla difesa per ragioni che se vuole approfondiamo. Assolutamente, prima però mi vorrei concentrare con lei sulla Cassazione. La Suprema Corte l'ha citato e come giustamente ha detto è stata molto chiara nel definire quello che dovrebbe essere una selettività dell'indagine fatta, quindi non si può omnibus andare a indagare su tutto. Effettivamente, dopo questa pronuncia molto bella del 2020 della Cassazione, dal suo punto di vista è stata la sua esperienza. C'è stato un seguito, è migliorata la situazione rispetto al passato? Come si agisce adesso? È una risposta molto difficile quella che le devo dare, perché a rispetto di due pronunce molto belle della Cassazione e sezione sesta, nella prassi applicativa le cose non funzionano ancora. La Cassazione, accogliendo un motivo di ricorso che ho avuto il piacere di redigere, ha statuito che all'esito di queste operazioni di selezione, la copia forense integrale, cioè quella che contiene l'insè della tua vita, tutti i tuoi dati debba essere restituita a chi ha subito il sequestro. Ed è stata di una chiarezza assoluta. Quotidianamente si assiste a un braccio di ferro costante tra le difese e le procure delle Repubbliche che dispongono i sequestri, che pur dopo aver selezionato i dati rilevanti, se ci si riesce, se si è riusciti a contenere il sequestro, comunque si ostina nella più parte dei casi a non voler restituire le copie forense integrali. E questo per un triplice ordine di ragioni di carattere pratico che però dal mio punto di vista attengono alla patologia del sistema. La prima ragione è che spesso gli inquirenti ritengono che conservare la copia forense integrale faccia sì che se in un domani emergono nuove sopravvenienze dibattimentali o istruttorie tu puoi ritirare fuori la copia forense integrale e cercare altri dati. Il che è l'esatto contrario di quello che dice ovviamente la Cassazione. La delimitazione, la ricerca del dato deve avvenire a priori. Se tu investigatore hai delle necessità investigative che ti impongono di approfondire i tuoi temi di prova dovrai disporre nuovi ed ulteriori sequestri, non puoi alla bisogna tirare fuori dal cassetto la copia forense integrale che avevi fatto. Seconda ragione di carattere pratico per cui le procure resistono a restituire queste copie. Spesso e questo è un tema caldissimo che io sto affrontando in diversi ricorsi e che non è stato ancora deciso dalla Suprema Corte si tende a sottoporre ad ulteriore sequestro la copia forense integrale e si dice io l'ho creata nel procedimento A però siccome mi serve anche per il procedimento B io sottopongo a sequestro la copia forense integrale nel procedimento B questo dal mio punto di vista, da un punto di vista giuridico è un'assurdità proprio per quello che ha già detto la Cassazione la copia forense integrale non è di per sé la cosa pertinente al reato esiste materialmente ma non giuridicamente le faccio un esempio molto semplice io dico che la copia forense integrale è come una torta che ha 10 fette dopodiché il dato probatoriamente rilevante nel procedimento in cui la copia è stata eseguita sono 2 fette di torta non può il Pubblico Ministero sequestrare le altre 8 fette di torta in un altro procedimento perché sono materialmente esistenti ma giuridicamente inesistenti quella copia forense integrale era una copia di lavoro transitoria solo perché le parti con tranquillità e con tutta una serie di accorgimenti tecnici potessero selezionare il dato probatoriamente rilevante rispetto al reato in cui il sequestro era stato risposto altrimenti significherebbe che c'è una perpetuabilità all'infinito del sequestro probatorio una volta che ti sequestro il telefono apprendo tutti i tuoi dati chiudo in un cassetto la copia forense integrale alla bisogna la tiro fuori per notizie di reato ulteriori e diverse di cui non vera neppure come dire non vera alcuna traccia al momento di esecuzione del sequestro anche qua la fisiologia del sistema vuole che tuo inquirente proceda a un nuovo sequestro del device perché altrimenti questa copia forense integrale che è semplicemente consentitemi un modo sterilizzato per lavorare in laboratorio per la ricerca del dato se fosse tecnicamente possibile selezionare il dato che interessa l'inquirente quando ti piglia il telefono sarebbe tutto più semplice non è possibile bisogna sterilizzare quel dato ma non al fine di prendere tutto di prendere sempre solo quello che è necessario per l'accertamento dei reati per cui si procede queste sono le patologie del sistema io personalmente ho in corso alcuni ricorsi per cassazione dove mi lamento del fatto che la copia forense integrale sia stata utilizzata quale cosa pertinente al reato in sé e assoggettata a sequestro nell'ambito di procedimenti penali diversi rispetto a quelli in cui la copia è stata eseguita ecco e qui arriviamo un'altra domanda che mi prima pare vale a dire questa patologia del sistema questa mancanza di selezione del dato a cosa porta poi a processi infiniti al perpetuarsi di azioni contro le stesse persone cosa cosa vede nella prassi nella prassi vedo l'ultima cosa che lei ha detto al perpetuarsi di processi contro le stesse persone nella patologia del sistema accade che gli inquirenti come dire facciano oggetto delle loro attenzioni investigative con maggiore frequenza a taluni soggetti rispetto ad altri e quei soggetti come dire sono continuamente oggetto di perquisizione e sequestri spesso esplorativi alla ricerca di notizie criminis potenziali eventuali ma del tutto ulteriori e diverse rispetto a quelle per cui c'è un minimo di fumus un minimo di consistenza indiziaria che ti consente di disporre il sequestro e quindi torniamo al tema della rete utilizzata dai pescatori di Mazzara del Vallo per fare la pesca strascico e questo è quello contro cui le difese attente devono combattere perché non è possibile continuare a utilizzare i sequestri informatici per pervadere non solo e non tanto la privacy ma per cercare notizie di reato rispetto alle quali non si ha un minimo di indizio ne va a mio avviso della tenuta dell'ordinamento democratico e veniamo al tema della difesa attenta e pronta soprattutto quando dovrebbe essere messa in campo per risultare efficace e soprattutto quali sono le prime azioni che un difensore deve esperire per tutelare al meglio il proprio cliente? Molteplici Contrariamente a quello che si pensava una volta dove tendenzialmente la presenza del difensore durante le operazioni di perquisizione e sequestro non veniva considerata un'operazione così delicata mai come in tema di sequestri informatici dal mio punto di vista e come sempre io faccio è essenziale che il difensore intervenga sin dal momento in cui la polizia giudiziaria concretamente va a sequestrare il computer, la pen drive, il cellulare perché proprio in quel momento può cominciare a chiedere una serie di garanzie ad esempio non è per nulla scontato che la copia forense integrale di device diversi dal telefono cellulare quindi il computer o la pen drive venga eseguita nel contraddittorio delle parti invece secondo me va chiesto, non c'è unanimità di consensi nella comunità tecnico scientifica però dal mio punto di vista è essenziale che ciò avvenga ad esempio la difesa deve insistere laddove la ricerca del dato avvenga durante le operazioni perché in taluni casi accade che la polizia anziché prendere il telefono cominci a cercare seduta stante il dato che interessa a quel punto è fondamentale che il difensore col decreto di sequestro alla mano indichi agli inquirenti le parole chiave da inserire perché a seconda di quello che inserisci cambia quello che ovviamente raccogli e quindi il suggerimento in ordine all'inserimento di keywords pertinenti e proporzionate rispetto all'oggetto del sequestro è fondamentale ma non solo, questo accade nell'immediatezza ma laddove il pubblico ministero dispone l'esecuzione della copia forense integrale nel contraddittorio delle parti e quindi mi spiace un tecnicismo ma si dice nelle forme dell'accertamento tecnico irripetibile dove la difesa può presenziare anche per il tramite di un proprio consulente e lì si apre un mondo su cui dovremmo fare altre tre trasmissioni televisive perché nonostante la Cassazione abbia cominciato a prendere posizione anche su questo tema ci sono tutta una serie di cose non scontate la più delicata in base alla mia esperienza è che laddove la copia forense integrale la fai in laboratorio dopo che l'hai fatta la partecipazione della difesa all'attività di inserimento delle keywords non è affatto scontata la Cassazione in quella famosa sentenza che lei ha citato ha detto in quel caso storico in astratto e non in concreto era stata garantita la presenza della difesa e la Cassazione ha detto bene ma io combatto quotidianamente con le procure della Repubblica che vogliono estromettere le difese da tutto quello che accade dopo l'esecuzione della copia forense ma ribadisco il dato delicato non è l'esecuzione della copia forense integrale ci sono i tecnici ci sono sistemi oramai consolidati e ciò che avviene dopo perché se il difensore non presenza all'inserimento delle keywords si possono creare quelle che io definisco le patologie del sistema che sono molteplici uno la polizia giudiziaria potrebbe in astratto fare un'analisi preliminare a 360 gradi del contenuto del telefono che è esattamente quello che si vuole evitare la polizia giudiziaria se la difesa non pretende la posizione dei sigilli sulle copie forense integrali e la rimozione e apertura dei sigilli sempre alla presenza della difesa potrebbe creare ulteriori copie forense integrali che rimangono negli archivi e nelle memorie della Procura della Repubblica se la difesa non presenza alle operazioni di inserimento delle keywords che è operazione tutt'altro che banale non pensiamo che inserisco la parola Michela ecco l'esempio non è felice diciamo spesso le keywords sono parole composte supponiamo fattura 44 è una parola composta se io inserisco solo fattura o solo 44 supponiamo un'azienda se io inserisco la parola chiave fattura ma viene fuori la contabilità degli ultimi 20 anni il che è esattamente quello che si vuole evitare è fattura 44 dell'anno 2020 che può assumere casomai un rilievo probatorio rispetto a un determinato reato se io inserisco solo 44 mi vengono fuori tutti i dati economici e aziendali contenenti il 44 quindi è fondamentale che la difesa a presidio delle garanzie di chi ha patito il sequestro possa partecipare a questa fase la Cassazione si è espressa su questo punto ma la prassi applicativa delle procure della Repubblica è solitamente di stromettere la difesa da tutte le fasi successive e questo è un'altra diciamo delle cose su cui io personalmente mi impunto e cerco di combattere di più e questo è uno di quei tanti nodi forse che bisognerebbe sciogliere che fanno parte appunto della prassi operativa visto che a livello teorico ci sono delle linee guida che mi sembra siano molto chiare da seguire quindi sono le prassi che forse andrebbero scardinate per riuscire ad ottenere poi dei procedimenti adeguati e che rientrano in quei parametri di legittimità di cui abbiamo parlato insieme poc'anzi sì è sicuramente così anche se mi permetto di dire che queste best practices la cui difficoltà è quella di unire il dato fattuale al dato giuridico perché non dimentichiamo mai che noi siamo abituati o eravamo abituati in un mondo normale che tu andavi in un'azienda ed era abbastanza ovvio che non potevi sequestrare tutto l'archivio cartaceo dell'azienda nel momento in cui tu sequestri un telefono in astratto avviene in astratto da un punto di vista materiale e non giuridico che tu acquisisci l'intero contenuto del telefono però da un punto di vista applicativo come arrivare alla selezione del dato comporta appunto delle operazioni in fatto che devono essere coniugate con dei principi di diritto e qui anche i giuristi più esperti rischiano di perdersi e di non trovare la via giuridica migliore per arrivare a questo risultato finale per di più diciamo che gli inquirenti ovviamente fanno il loro mestiere e quindi resistono rispetto a queste indicazioni e quindi tutto diviene oggettivamente più complicato quindi nonostante queste sentenze siano di una chiarezza e di una bellezza motivazionale importante io credo che non si sia assolutamente arrivati a mettere al punto fine a queste vicende anzi si comincia ma le dirò una cosa di più che mi è capitata di recente e che mi ha lasciato abbastanza perplessa poi l'ho vinta la cosa però già il fatto che sia accaduta è un indice di allarme sequestro di un cellulare faccio il riesame vinco il riesame il sequestro è illegittimo perché non erano state individuate a priori le cose i dati che si andavano a cercare prima ancora che mi venisse restituito il telefono e la coppia forense integrale altro sequestro sulla coppia forense integrale con motivazioni oggettivamente più articolate rispetto a quelle del primo sequestro io ho fatto un nuovo riesame lamentandomi del fatto che l'oggetto del sequestro non poteva essere la coppia forense integrale che era di per sé stessa illegittima perché era stata eseguita nell'ambito di un sequestro che era stato dichiarato illegittimo è come anche qui faccio un esempio per cercare di essere più chiara se ti sequestrano un'agenda il giudice dichiara che il sequestro di quell'agenda è illegittimo ma siccome tu hai fatto le fotocopie o le fotografie dell'agenda in un momento successivo vuoi utilizzare le fotocopie di quell'agenda questo non è possibile perché la coppia forense integrale è stata fatta a seguito di un sequestro illegittimo quindi se vuoi disporre nuovi sequestri il punto è sempre quello tu dovresti tornare a sequestrare il device perché altrimenti questa coppia forense integrale diventa un po' come il jolly che viene utilizzato alla bisogna per diciamo far riuscire o meglio far rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta perdoni la semplicità del linguaggio però il concetto mi sembra di tutta chiarezza assolutamente anche la figura del jolly che quando si tratta di diritti da tutelare delle persone tanto che siano fisiche quanto giuridiche non dovrebbe mai essere messa in campo perché non si può utilizzare dei jolly laddove i jolly limitano appunto la libertà individuale avvocato io la ringrazio per essere stata con noi grazie all'avvocato michela vecchia i preziosi consigli e spunti di riflessione che ci ha fornito oggi in questa sede io ringrazio voi grazie mille grazie naturalmente anche al pubblico di le fonti per averci seguito l'appuntamento con agora penale la prossima settimana e parleremo di ecoreati arrivederci buonasera